E ancora nella lista delle priorità strategiche stilata da Anas per la nuova tangenziale, il quitter procedimentale è stato concluso, sembra però difficile arrivare al bando di gara prima della pausa estiva e con la caduta del governo nazionale qualche incertezza in più è emersa ma l'investimento non è comunque in discussione. A settembre potrebbe esserci la novità del bando e della relativa gara che però con quell'importo necessiterà di non meno di sei mesi. Sulla tangenziale un progetto con budget da 316 milioni di euro è piovuta anche la grana dell'aggiornamento prezzi, l'aumento consistente dei costi, delle materie prime e di tutto ciò che ruota intorno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale ha costretto a rivedere i numeri. L'aggiornamento prezzi che fa lievitare i costi in parte è stato coperto con le economie che si erano generate, circa 30 milioni di euro. C'è stata comunque una richiesta al governo per avere ulteriori fondi sia per la tangenziale che per altri progetti strategici di Anas, tutti sottoposti alla sferzata dei prezzi che aumentano per le materie prime, dagli acciai ai bitumi passando per i carburanti. La stima non è definitiva ma potrebbero volerci in totale somme per circa 50 o 60 milioni di euro in più. Tutti aspetti che Anas sta seguendo, come è stato confermato da recenti interlocuzioni con la segreteria del sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Anche il senatore Pietro Orefice negli ultimi giorni ha effettuato ulteriori verifiche e approfondimenti e a questo punto si attende che si possa passare al bando di gara una volta coperto l'aggiornamento prezzi. In questo periodo inoltre sembra sia stata comunicata una deroga alla scadenza fissata per dicembre che inizialmente era il termine ultimo per arrivare all'aggiudicazione della gara. Non è ancora certo, lo precisa anche lo stesso Orefice, ma questo secondo il senatore non può essere una scusa per slittare ancora di più i tempi. Per l'Orefice bisogna procedere da subito con il bando e la gara anche perché trattandosi di una procedura europea serviranno non meno di 5 o 6 mesi per espletarla integralmente.